Ehi, guardate ragazzi, chi è in vista? Sentiamo ancora dove vieni? Perché vengo da Bologna. Bologna, che schifo di città. Già, schifoso come lei. Ehi ragazzi, guardate, il gruppo degli M più M. Ma trattando questa ragazza? Sì, giù. Ehi, che stai combinando? Niente, facciamo solo. Sono un affettamento. Sì, è vero. A noi piace. Se vi state dando fastidio, è meglio che la lasciate stare. Non ve la vedete a contare con noi. Già, avete capito? Lasciate la laurea a fare! Andatevene. No, vai! Portiamo le laurea di te l'era. Sì, buona idea. Ma che sta succedendo qui? Questa non ha trattato questa ragazza. Ma che sta? Adesso venite con me in direzione e chiamere i vostri genitori. Ehi, che sta succedendo. Ehi, che sta succedendo. Ehi, che sta succedendo. Grazie. 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 Grazie.